55 candidati in tutto, 29 sono donne, 26 sono uomini. Presentazione ufficiale delle liste provinciali del Veneto che vogliamo, civica espressione del candidato presidente del centro-sinistra Arturo Lorenzoni. Un progetto che parte dall'esperienza di coalizione civica nata a Padova nel 2017 quando Lorenzoni è sceso in politica candidandosi a sindaco della città dove è stato vice sindaco fino al 13 luglio. È una squadra ampia, sono 55 persone che hanno deciso di condividere un percorso appoggiando un'idea, un progetto, un progetto di Veneto bello, un progetto di Veneto sostenibile con un'agenda profondamente diversa da quella che abbiamo vissuto negli ultimi dieci anni. Io sono grato a ciascuno di loro perché rappresentano tante sensibilità, tanti mondi che hanno deciso di lavorare insieme intorno ad un progetto pensato e prodotto insieme. La candidata più giovane è Vicentina e ha 27 anni, il candidato più anziano, un veneziano di 67 anni. L'età media è di 49 anni. Nelle liste sono presenti 44 comuni del Veneto, una scelta di territorialità per cercare di rappresentare le varie zone della regione. Molti sono o sono stati amministratori locali, un programma scritto e condiviso quello che li porta a correre.